Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ormai il braccio di ferro tra le forze politiche su se andare al voto subito con la legge uscita dalla sentenza o se provare a farne un'altra in Parlamento condivisa il più possibile. Voi che ne pensate? Allora, noi non abbiamo cambiato la nostra posizione che è sempre quella di andare al voto subito e di dare la possibilità ai cittadini quindi di tornare alle urne e scegliere i propri rappresentanti. Questa chiaramente, questa bocciatura del ballottaggio che era un po' il cuore di questa legge elettorale che Renzi aveva definito la più bella del mondo, quella che avrebbe dovuto copiarci tutta Europa, ecco è stato bocciato ed è una bocciatura che si inserisce in una serie di bocciature delle riforme fatte da Renzi, in un ultimo la riforma costituzionale che ha bloccato il Parlamento, ricordiamolo, per oltre un anno e per finire catastroficamente sotto il no di 20 milioni di italiani, il Madia che è stato anch'esso bocciato, il Salva Banca, insomma un fallimento di una serie di fallimenti. A nostro avviso si può andare a votare con la legge così com'è anche perché è autoapplicativa. Se proprio, se proprio si volessero inserire quei correttivi minimi per rendere ancora più omogenei i due sistemi elettorali, la cosa si può fare in due, tre giorni e poi si può andare a votare tranquillamente. Quindi si profila o è possibile un asse Renzi 5 Stelle? Renzi dice o Mattarellum o voto subito 5 Stelle, Renzi ma anche Fratelli d'Italia e Lega e Scelta Civica? Ma io non parlerei di asse, parlerei di convergenza sulla necessità di andare subito al voto. Poi non so Renzi come la metterà coi suoi compagni d'avventura. Sì perché le divisioni nel PD ci sta. Che ne pensa di Enrico Letta che commenta, io a luglio, l'avevo detto che l'Italicum era un grande errore di Renzi? Beh evidentemente Enrico Letta aveva visto quello che avevamo visto noi, non lo so, è libero di esprimere la sua opinione, ma non credo che sia l'unico all'interno del PD a posteriori, però a posteriori. Intanto il governo deve andare avanti mentre l'Italia accusa gravi difficoltà dal punto di vista economico, l'Europa punta l'indice contro il nostro debito pubblico. In questa situazione di incertezza, di dubbio, voto o non voto, cosa può fare realisticamente questo governo? Ma innanzitutto guardi, io direi che potrebbe agevolmente e con urgenza calendarizzare il nostro disegno di legge sul reddito di cittadinanza, che tra l'altro è un disegno di legge che è fermo in commissione lavoro da più di due anni, è un disegno di legge che metterebbe l'Italia sullo stesso piano di altri paesi dell'Unione Europea, perché ricordiamo che una misura come quella del reddito di cittadinanza all'interno dell'Unione Europea non c'è solo in Grecia e in Italia appunto, è una misura che non è per nulla assistenziale, ma è una misura volta al reinserimento delle persone nel mondo del lavoro e alla formazione, soprattutto in questo periodo in cui ci si interroga su quella che sarà la società post-industriale. Noi abbiamo organizzato un convegno bellissimo che ha ottenuto il plauso anche di esponenti di altre forze politiche, si è guadagnato degli articoli anche sulla stampa specializzata di Lode, abbiamo fatto questo convegno, il lavoro 2025, possibili scenari nel mondo del lavoro in una società che è cambiata radicalmente e abbiamo dimostrato con questo convegno in cui sono intervenuti degli esperti prestigiosi in materia di lavoro, di essere una forza politica in grado di proporre delle visioni, di interrogarsi su quelli che sono dei temi centrali per il nostro presente ma soprattutto per il nostro futuro, quindi di essere una forza politica con una visione e questo è importante. Allora io dico che il governo Gentiloni se volesse fare qualcosa di buono in questo scampolo di legislatura che rimane dovrebbe celermente far calendarizzare la nostra legge sul reddito di cittadinanza. Beppe Grillo si mostra favorevolmente colpito dalla elezione del Presidente americano Trump, Italia first o Europa first? Parla passando Trump, lei cosa direbbe oggi? Ma vede non è questione di Italia first, Europa first, c'è Italia prima e Europa prima, noi facciamo un discorso che è quello che se l'Europa deve rimanere una congregazione di lobby che portano avanti interessi di pochi, interessi delle banche e l'Europa non deve essere una comunità di cittadini con dei valori di cittadinanza comuni, allora è meglio farsi delle domande perché questa Europa dell'austerità e delle banche non sta funzionando. Se invece c'è la volontà di costruire un'Europa dei popoli, allora che ci si interroghi e ci si incammini su un percorso che faccia sì che l'Europa sia percepita non come un organismo lontano dai bisogni dei cittadini, come un organismo che impone politiche economiche che si riverberano anche negativamente all'interno degli stati membri, ma come invece proprio un organismo più vicino ai cittadini, cioè noi dobbiamo porci questo problema, quindi non è un problema di Italia prima e Europa prima, è un problema anche qui di visione, di che cosa vogliamo farne di questa Europa. Brevemente, il caso Raggi e tutte le altre tensioni sono molte nel Movimento 5 Stelle, che risponde? Il caso Raggi, mi pare il 30 gennaio la Raggi è attesa in procura, secondo il codice di comportamento, Virginia Raggi ha informato tempestivamente lo staff, ha informato i consiglieri di maggioranza, la Giunta, i cittadini con un post su Facebook, quindi ha fatto un percorso di trasparenza, il 30 gennaio comparirà davanti la Procura, aspettiamo, vediamo. Ma il fatto che il Sindaco abbia rispettato il codice etico è un via libera per andare avanti? Al momento basta, poi vedremo quali saranno gli sviluppi di questa vicenda.